Li consiglierei a tutte le coppie che si vogliono sposare per il prodotto che offrono, il servizio che offrono, quindi la capacità di portare un prodotto innovativo, le foto, l'album, il video e soprattutto per quanto riescono a darti una mano a valorizzare la tua giornata con il manuale, con dei piccoli accorgimenti, anche solo parlandosi, scambiandosi dei vocali tramite Whatsapp, che sembra una stupidità però effettivamente in tante occasioni ci è stato utile perché è un modo per stare in contatto con loro e capire in che cosa possiamo magari migliorare o modificare determinate cose.